Salve a tutti, bentornati nella cucina di Cucinando e Pasticciando. Oggi prepariamo insieme la maionese. Gli ingredienti sono tutti freddi di frigorifero e sono un uovo intero, 220 grammi di olio di semi, un cucchiaio di succo di limone e 2 grammi di sale. Ora prendiamo una caraffina dai bordi, bordi alti e ci versiamo. L'uovo, il succo del limone, il sole e infine l'olio. Ecco, ora con l'aggurto del mini Pimer cerchiamo di centrare il rosso, forse se riprendo più decentemente. Allora, ecco qua, rosso e iniziamo a freddare. Ecco qua. un po' di luce un po' di luce un po' di luce eccola qua pronta in meno di 10 secondi un po' di luce un po' di luce